Ok Non lasciare che bersagli immobili raggiungano il tuo lato Ah cioè ci dobbiamo sparare uno dall'altro Sì, dobbiamo mirare e mirare Vai 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 Perché hai premuto cerchio? Anziché triangolo Brutta becillina E calma, calmati eh Ah ma tu c'hai i tuoi o c'hai i miei? No Sembra lo stesso Sembra lo stesso, ma allora è... ah ok Ce ne ha qualcuno in più, fa senso Questo qua vinco io perché Kira non è che abbia una mira fantastica No, è facile Bisogna essere tanti Eh io sto ritrovendo Meglio Io sai cosa che faccio fatica a capire quali sono quelli che vengono dalla mia parte In base a come sono disegnati Questa è una cagata Eh sì perché non è semplice Urca si inizia ad essere tanti anche per me Però non stai andando benissimo Kiruccella Cosa ci vuoi raccontare Kiruccella di questo? Faccio schifo Mi dispiace sto vinto Facciamo un'intervista a Kiruccella Faccio schifo Faccio schifo Sono una merda No, no sto perdendo amaramente Amaramente Guardate i giochi dove non ci vuole La fortuna Kira come la straccio Guarda 11 a 0 11 Sei proprio una scarpona Sì proprio una scarpona Concordo Ma piangi Piangi veramente Perché sei proprio una scarpona Scarpona Aspettate Aspettate Dobbiamo fare una cosa importante Non imparate da Maverick Perché è molto tipotica la cosa No mi sono piantato Stavo corriendo contro un muro Io sono poco Cioè poco competitivo No no poco sportivo Poco sportivo Perché non corre Perché alle volte non corre Corri 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 Guarda che si incastra Però La giù Aspetta un attimo Niente Lei va Io vado Mentre le panna Come ti ho rotto le panna No Adesso c'è la boss fight Oh my god Where are we going? Non apri la mira Calma Dobbiamo solo schivare Ok È solo una cosa di schivaggio Di schivamento Di schivatudine Come si può dire? No Schivaggio E cos'è caravaggio Lo schivaggio Impariamo l'italiano Con Maverick e Tira Forse no Mi confondo col tuo personaggio Perché prima Almeno vedevo che ero ciccio Da così non riesco a capire Se sono ciccio o meno Dai 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 Sono mezzo morto Si lo vedo Sono mezzo morto Posso fare culo culo Faccio culo culo io Si muovere Si muovere Eeeh Fandiamo uscire Sani Dai maverick Io ci sono Senti tu che non ci sei Ci sono sì Non li vedo Non li vedo Non li vedo Faccio fatica a vederli Male Malissimo Malissimo Visto che stiamo Eeeh Si è per farla Sottiletta No Sicura che non dovevamo scendere Vero? No 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 Eeeh Colosseo Oh madonna Guardate Guardate quanta gente Ora esce il leone Bah E' una vespa attraversita da leone Ci sarà la regina Sicuro Però io dico Una volta che li amassiamo la regina Queste qua che cazzo fanno? Cioè ci ammassacrano Uno scarraffone Cacca fidici Un coleottero Ma non sono i mangiacacca questi Nooo Non so quelli che portano la cacca in giro I coleotteri no Kira ti devo dire una cosa Ti devo dire una cosa Che a te non piacerà mai Che farò A casa nostra Quando andremo a vivere Ma andremo a vivere Ma andremo a vivere Ma andremo a vivere Ma andremo a vivere da dietro Mi sa sai Sam Ma quando apre le ali Devi stare attenta Secondo me Perché non è colpibile Quelle grate Hai parlato di grate Ok Colpisci le grate Sto colpendo le grate Aspettate Vino Salta Facciamelo vedere qua Ok io te le riempio le grate Ok Aspettate Ti riempio le grate Comunque stavo dicendo Una cosa che non ti piacerà mai Voglio fare una collecina di insetti No che schifo Voglio la collecina di insetti Qui da me Complimenti Fam brodo E' qui da te Te lo fai da sola Arrivare Arrivare Ora viene qui da me Aspettate che sta facendo Boom 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 Allora Come siamo distanti Vai Ok Dobbiamo farti un po' il toro Si Attenta Bravissima Mamma mia che tecnica arriva qua da me olena aspetta eh il toro è un loco e olene olene come facevo alla macchina tanto veniva perché lei è un attore rino poverino ecco e allora mettiamoci tutti insieme sono vegetariano allergico a glutine chi è che non c'è un coleotoro gli animali possono essere allergici non lo so non glielo ho mai chiesto più che gli animali normali tipo cani gatti gli insetti possono essere allergici quindi morire di allergia perché mangiano qualcosa e soprattutto imparano a sapere cosa dai ora dobbiamo cavalcarlo si bello allora lui gli dobbiamo dare un nome pino calma 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 ah io lo guido ok veloce mira mi stai facendo spara tu spara non puoi sparare niente allora a loro a loro a loro a loro a loro a loro veloce ci stanno massacrando kira più veloce stiamo morendo e non importa prendilo perché abbiamo quattro punti vita cinque punti vita io è meglio che guardo la strada spara 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 madonna che pelo spara 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 madonna dove dobbiamo andare oh madonna ok queste qua le posso anche saltare le ha produttose 10 me le togli che rischio sono vegetariano chi non ha mai conosciuto un coleottero vegetariano allergico al glutine eo ecco mi corre bene ora copilati perché canto troppo bene sembra la canzone cosa ha sto fuoco così rosso cosa ne sa perché sono loro ho capito ma la madonna che cazzo di fuoco è non c'è semigli non è il fuoco più una luce chiedo scudo ok e via madonna e abbiamo preso un danno però mi sembra di averlo colpito e magari ho colpito io il muro ok però dovremmo avercela fatta salta la madonna stiamo andando con con cosino stiamo andando ma poi c'è l'altro che può volare infatti adesso dobbiamo andare a battere la perigina poi forse direi che possiamo scoppare l'ultima si si anche perché sono 2 ore e 12 minuti stiamo avendo solo no povero mi dei mi dei stiamo precipitando mi dei chiedo terra di emergenza sulla pista 5 però ci ha portato all'armenare è morto è morto si è sacrificato per me ce l'avremo sulla coscienza ecco è morto no lui adesso può ripolare è morto non è oh madonna ma è la madonna è veramente un robot allora si va bene allora ci sarà dovremmo sicuramente ti dico già come va dobbiamo sparare ai due alverini e poi alla regina quando si aprono delle cose devi spararli quindi dobbiamo essere super attenti secondo me questi due ci sono fatti per distrarci e poi bisogna colpire la regina dove hai punti rossi forse si però secondo me di base non vai spara 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 guardavo la tua parte ecco perché stavo sbagliando si può dirla spara la regina si 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 perché c'è un rd? perché puoi andare dietro evidentemente ah per dobbiamo colpire forse diversi punti si probabilmente si distruggono è un robot potresti anche distruggio o salveare dato che lo si 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 ahia sono stupido ok forse per questa ok la prima parte è andata per questa mappa era meglio che ci invertevamo i personaggi ok dobbiamo andare via vieni 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 vabbè io le sparo non ci sa mai ok fammi 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 eh non ci sono ah scusami non ho capito su cosa sono morto quasi anche io avevo visto che di te ma io non ho capito su cosa sono morto ah merda ci sono anche questa terra madonna non si capisce niente è un bel casino devi sparare anche la regina ok due pezzi li abbiamo fatti ora c'è la testa eeeh mi e la madonna l'eroplano si bombardano buongiorno a Kira i riflessi ma non ho avuto un esempio insieme siamo sotto madonna ragazzi miei Kira e il tempismo scialalalalalala ma è giusto poi tra poco dobbiamo registrare i fumetti della minchia si ha l'eroplano si ha l'eroplano l'eroplano ma basta Kira una scarpona quanto ci vuole ancora questo gameplay lo chiamerò Kira una scarpona no dai ma dai è perché devi sparargli più volte ma non è così veloce no 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 avevo capito e io un attimino ho finito le mie la mia benda sai che non siamo neanche a metà vero e lo noto però non ho capito cosa dobbiamo colpire in testa in testa in testa gli occhi sto facendo ma ci sono quelle che si mettono davanti in realtà possiamo anche andare a colpire da dietro forse però qua siccome dobbiamo colpire le ali e non riesco non riesco a miraglieri ci sono sempre questi qua davanti ok gli occhi li ho impestati per bene spara 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 allora allora provo a colpirla dietro c'è qualcosa da colpire dietro si si arrivo uno e uno oh cazzo come lo colpisco uno di due deve stare fermo però guarda che mi stanno facendo dalla protezione si devi distruggermi queste vespe hai finito di morire è un casino questa boss fight si vai provo a fare il culo culotto 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 ok culotto sto facendo devi colpirlo devi colpirlo devi colpirlo che devi andarci tu lei si gira in base a te secondo me oppure in base a uno dei due nel senso se ne andiamo tutti e due ok mi hanno preso le vespe come ti hanno preso le vespe vabbè perché ti hanno portato qua vabbè ok allora di nuovo poi dopo vado io dietro faccio il giro prima te le impesto un po' così me le togli tanto mi devi togliere quelle che fanno a scudo puoi anche saltare si si lo so no così non ti non ti beccano sicuramente non togliere prima quelle dalle palle dopodiché vado dietro e teoricamente poi c'è da sconfiggere l'ultimo coso si che è il colpicino nella parte sopra allora devi togliermi quelle di lato no sto guardando la tua parte perché ogni tanto guardo la tua parte queste qua devi togliermi ok vado dietro no mi stanno mi stanno mi stanno mi stanno bloccando mi mani di quello che stava facendo a me ho capito ma io così non riesco a prenderla ok ora sono libero ok le ho l'ho impestata vai pure te va ancora ancora ok ok adesso arriviamo e tu spara qua e belì ok un attimo arrivo non mi morire muoverti mi muoverto ok devo andare di nuovo a impestare le ali ok più che potevo tutta tua più penso a schivare ok ok boom andate almeno per ora non è ancora finita no mi sa che ci vuole ancora la testa eh si adesso è un bel così vai 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 così indietro vai sparagli sparagli e ci sono queste che li troppano devi sparare queste qua da me uh merda ci ci buttano fuori devi saltarle devi sparare queste qua se no io non posso sparare queste qua da me aspetta aspetta sto provandoci madonna che casino spararle la cosa brava sto facendo sto facendo è che tra poco va giù aspetta che ti do un po' di fuoco a tutte ok sto sparando la cinghia la cinghia la cinghia la catena se non le vai a sparare avanti non riesco ok aspetta vai spara vai te le sto liberando ok ok queste qua da me se no non riesco a sparare cazzo si fa giocare online con uno che non parla ma cazzo impossibile dai dai veloce 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 di sparare alle mie alle mie alle mie qua 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 cacchio ho capito ma così non riusciamo ok per risparare la cinghia eh di nuovo ci hai messo troppo tempo ok sto massando spara la cinghia spara la cinghia non c'è arrivato merda oh madonna perché se non facevi in tempo quelle di poi ritornavano a coprire è perché io no è perché io no eh ma io dovevo girarmi verso le tue per sparare le tue no le altre le saltavi le altre le saltavano madonna che cade è un piccolo bombo è bellosetta è perché è bello che è bombo no 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 io sono la wasp queen oh madonna che è stupido bombo guarda che linee piccine che c'ha il bombo ecco ora dobbiamo salvarla dai spariamo spariamo porca e vediamo se questo stupido questo qua la mission impossible che cazzo booo 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 aaaaa ta la 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 eh uuuu addio nido booo vabbè dai stiamo tutti bene povero bombo tanto il bombo è un bombo ma con le 8 ore è morto no ce la fa era nel nido povero bombo povero bombo uccidato il traitor si può aiutare a salvare noi sì io sono speciale sì e tutti i waspi non abbiamo bisogno di uccidare non abbiamo bisogno di uccidare oh quindi sei nel stesso team ora? uccidati tutti ecco ecco la madonna ma che cazzo i violenti eh mia di merda che c'hanno per tutti però non ho appena scasso il bambino buona luck fey prendiamoci con te fey che bastarda che bastarda meno male che devi guidare tu e non io perché sennò vai facciamoci ancora la sensazione ma che bastarda minchia tu devi sparare e devi guidare codice guscio codice guscio posso fare una cosa pazza? no non si riesce vorrei farlo un testa testa in giù ma non si riesce no non farlo ma perché non faccio un testa ma venite aia ho preso un sacco di danno ottimo ho preso tantissimo tanto neve ne ha premuto provate ne ha premuto vediamo 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 ok ho preso un sacco di danno che banana scemo però poi una volta tanto voglio sparare io non sono i ganchi sprint vai 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 vediamo lo sprint mamma mia mattiello ma vabbè ma non è una stazione così breve no dai ci sono gli scogliatoli con gli aeroplani anche loro gli scoglioplani no gli scoglioplani gli scoglioplani che sembra quasi gli scoglioplani si infatti vai 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 dai tu spara buttali giù buttali giù ci stanno massacrando però è noto SOS SOS non a sinistra ehi spara madonna cosa mi servi se non spari chiedo scusa guarda anche dietro ogni tanto a punto scoglioplani cerco di schivarli ma tu distruggili aia merda eh no è arrivato il colpo di quello stronzo è arrivato un po' in ritardo tu non puoi schivarlo fino a prova contraria che cazzo dici uno scoglioplano ok tanto ha salvato quindi buona cosa spara spara davanti spara davanti spara davanti oh merda fai un buco esatto sai cos'è il problema di sta cosa? che c'è effetto molto occhio di pesce guarda dietro 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 destra e sinistra destra e sinistra spara davanti davanti merda spara no merda no cannoni cannoniere ma no non è semplice spara 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 polenta certo grazie polenta spara o sia una spara polenta vedi tu davanti 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 no quando ti dico davanti non è un attimo un cazzo un attimo non mi interessa ci abbiamo metà vita sì però non va più giù vai solo su perché non va più giù forse perché sei rotto ma che minchia è goffi ci si è staccati? vai devi combattere vai 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 fight è morta al com ma tu devi continuare a guidare? ah ups non lo avevo capito scusa ci sta come cosa però non lo avevo capito oh non riesco a guidare non riesco a guidare mi sta mi sta porca puttana no 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 allora non hai capito devi darmi una mano eh no 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 non capito dimmelo scusami eh se devo andare a sinistra devi andare a sinistra dimmelo quando devi andare a sinistra perché non mi trovi col coglione dai massacralo su no minchia mi fa un male colpo è la madonna che cazzo è su è aduken mi chiesti qua è la madonna che cazzo è la madonna che cazzo è la madonna però ho rotto il minimo rotto il lever si infatti stiamo precipitando non è stata una bellissima no non è stata una bellissima nel senso che dobbiamo fare come peso sinistra 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 dritti al centro io sono al centro un pochino a destra piano ok dai un pochino a sinistra ok non troppo non troppo non troppo piano un pochino a sinistra sinistra ok un pochino verso il centro io sono al centro io sto leggermente di qua così continuiamo a girare stiamo in girata però sta fanno un pochino il tubo no il tubo che cazzo ci fa una bicicletta nelle fogne madonna santa ora mi sposto a destra salvato va bene merda eh ho sbagliato destra 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 ma scusa se sono a destra mi vai contro di guardare dove vado io perché sono più pesante sono più pesante c'è uno ciccio mamma mia cosa fa ora siamo nel giardino sinistra 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 destra 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 al centro saci centro Lenta Hai ragione, scusa Porca miseria l'altra Destra, 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 a sinistra Destra Centro Ok, dammi il tuo direttivo E te lo dico, tu vai dalla parte opposta Ti dico sinistra, vai a destra Un pochino a sinistra Mamma mia Cioè non sai manco la differenza tra la sinistra e la destra Potrebbe essere problematico per una calapatente La so la differenza No Vai sempre dalla parte opposta Vai, 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 vai Tu stai sempre dormendo Povera bambina, l'abbiamo abbandonata a se stessa Sì, infatti Babbo lunare No, siamo morti, siamo in coma Allora arrivano i servizi sociali a raccattarti Perché siamo morti Che brutta sta bambina Poverina, una bambina Sono violento Sei orribile Aspiriamo gli occhi all'aspirapolvere Ma che brutta è quella candele così Cioè ma Tutta la cera afficcicata Tutte sciolte Cioè infatti Ma poi non sono attaccata Non hanno nulla sotto Pensa se sta bambina si suicida Noi arriviamo Sì, ciao bimba E appesa Che brutto Che è stato un finale orribile Un po' confermeli friendly Non è che la bambina si suicida Solo perché I minitori si stanno lasciando Babbo lunare È in posa però Lei sa fare i flick shot Eccoci Oh 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 Ciao ciccia Oh Oh Credi che sia ok? Oh Si sembra bene Cioè 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 Ha piaciuto il gioco No Non prensi Non prensi Non prensi Non prensi Si ne è fatti Hai caramba Ecco Ne è fatti Ne è fatti Effettivamente Hai ragione Non prensi Penso che è E ci siamo E ci siamo No Caramba Caramba Con gli scatti Cosa se non possiamo Non fare Rose Criare? Dobbiamo O Siamo stessi Per sempre Ma deve Si sta bene Che è successo? C'è uno che ci sta osservando Adesso ci rapiscono C'è la telecamera che ci sta osservando Il più grande il più Ok Ok Ma come è questo? Boss Lightyear veramente? Allora Allora Io direi che stoppiamo Perché sono due ore e 45 che stiamo registrando Purtroppo Quindi direi che è una pausa dovuta Sì Poi lo continuiamo Però adesso è una pausa dovuta Sì Noi vi salutiamo Sarà l'89esimo video 152esimo 152esimo Oh Sono un ninja Wow Va bene Basta Dai vi salutiamo Ciao ciao Anche perché stiamo gravando Au revoir Ciao